Salve a tutti, mi riconoscete? Sono io, Amos Zanda, il cantante. Allora, il gruppo di mia madre del catechismo si chiama Amos, come il sottoscritto. E sono molto contento che i bambini del catechismo di mia madre abbiano il mio nome. Oggi sono stato molto contento che li ho fatti cantare la canzone Tu scendi dalle stelle, ma ci dovrò lavorare molto con loro. E niente, ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale, come vi ho spiegato stamattina. Il Santo Natale è una festa molto religiosa che va festeggiata in tutti i paesi, anche dalle parti di Pimenten, dalle parti di Nuoro, Sassari, Laconi, Belvi e molti, molti, molti paesi. Ci sono molte tradizioni che sono diverse, usano delle usanze diverse dalle nostre. Ci sono i parenti che si riuniscono tutti a casa come una vera grande famiglia. Vengono cugini, bambini, cioè un po' di tutto. Il Natale è anche divertimento, non è solo la nascita dei bambini Gesù, ma è anche la cosa più bella quando si scattano i regali sotto l'albero di Natale. È veramente una cosa bellissima, che ogni tanto cade ogni morte del Papa, anche secondo me. Cioè, ragazzi. Io, oltre a Checo e Matteo e Alice, ho anche delle altre nipotine. Ho una nipotina che si chiama Sara Carlini, la grande si chiama Santina, e poi ne ho altre ancora, di nipotina che si chiamano Alessia e Michela. Alessia è molto bella, c'è i capi biondi, e quando mi verranno a trovare qui, a casa, se ce la farò, canteremo insieme la mitica sigla con ora di L'Uomo Tigre. E quando erano piccole cantevamo in coppia, eravamo come più o meno i cavalieri del re. Solo che loro, io essendo lo zio, erano molto più bravi di me. Cioè, andavano a tempo, così, capito? Sono passati un sacco di anni che non le vedo. Le vorrei proprio rivedere. E niente, adesso che ci sono le vacanze di Natale, ci fermeremo anche noi con le canzoni. Infatti, a quest'ora, vi ricordate che mi mettevo a cantare? Adesso io mi riposo. Riprenderemo in primavera. Perché adesso farò riposare anche la voce. Vi auguro una felice vigilia di Natale. Buon Natale a tutti coloro che mi seguono su YouTube. Vorrei salutare adesso che sono in diretta i bambini che sono ricoverati a San Giovanni di Dio, a Microcitemico e anche all'ospedale Brozu. Vorrei salutare anche il gruppo il gruppo che si chiama Amos e anche il gruppo che si chiama Gerusalemme. E vorrei salutare tutti i bambini della parrocchia della Madonna della Strada e vi voglio augurare un felice Natale. Spero che il bambino Gesù nasca nel cuore di molte persone, anche quelle cattive, quelle malvagie e quelle buone. E niente, la mia grande tristezza è che adesso che ci saranno queste vacanze di Natale non potrò più evadere i bambini di catechismo sia di mia madre che gli altri bambini che scendono giù all'oratorio. È un vero peccato. Ma forse li rivedrò dopo la beffana. O forse prima del mio compleanno che il mio compleanno, ragazzi, cade il 25 di gennaio. E dunque, vi stavo dicendo stamattina, anzi poc'anzi, che forse faremo una puntata inedita, anzi due puntate inedite, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, e poi è anche il giorno della beffana, e quindi faremo, anzi, anche qualcosa di Capodanno. Passeremo un Capodanno veramente galattico. Non vi posso dire che cosa potremmo organizzare. Adesso vedremo un po'. E niente. Tornando al discorso di stamattina, che vi stavo dicendo sì, Babbo Natale esiste, però, cari bambini, Babbo Natale si fa vedere solo dai bambini bravi. Dovete aiutare, innanzitutto, mamma e papà. Le fate le faccende di casa, vi sistemate la camera, togliete la roba dalla lavatrice, portate la roba fuori veranda, pulite la lettiera del gatto, portate i cani giù, fate i compiti, no? Tutte queste cose Babbo Natale le vede, eh? Io vorrei salutare, se Dio vuole, adesso che sono in diretta, vorrei salutare i bambini di catechismo di mia madre, un grande bacio, vi voglio un bene dell'anima, a tutti i bambini che conoscono Zio Ammons, li voglio proprio salutare. E niente, stavo dicendo che forse ci vedremo domenica, ricordatevi che c'è da portare Gesù Bambino, domenica, perché l'altra domenica, come vi stavo dicendo stamattina, è la vigilia di Natale. Ci sarà Babbo Natale che passerà anche qui come tutti gli anni, e niente, per il momento io vi auguro un bellissimo lunedì e adesso vedremo che cosa succederà il 24 dicembre, l'appuntamento come tutti gli anni ve lo do sotto l'albero di Natale, ci vediamo, ci sarà tutta la famiglia Zanda, vabbè Marco non ci sarà mio fratello, ci sarà mio fratello Alessio con la piccola Alice, ci saranno Checco e Matteo con Sabrina, però Fabrizio Trono non c'è, perché sta lavorando. Però io, anche se sono in vacanza, i video li farò sempre, capito? Anche perché c'è poca gente che mi segue, come mai c'è poca gente che segue Zio Amos? La domanda è questa, capito? Bene, io vi saluto, vi auguro una felice notte, a risentirci, a domani, sempre alla solita ora, buonanotte da parte di Zio Amos, ciao! Ah, vedo che i miei video vanno forti, continuate così a seguirmi alla grande! Di nuovo voglio salutare tutti i bambini della Madonna della Strada, voglio salutare tutti i bambini che vengono sia la domenica che lunedì all'oratorio e fin quando ci sarà sempre Zio Amos alla Madonna della Strada, il divertimento è garantito, ok? Buonanotte a tutti i bambini, un grande abbraccio dal vostro Amos, ciao!